In questo video parleremo di due motivi per cui non riesci a far sesso con nuove ragazze. Scopri come più di 1.400 uomini in Italia stanno finendo in camera da letto in poche ore con nuove ragazze conosciute al vivo, riducendo quasi a zero le possibilità di essere rifiutato grazie al metodo AAA. Funziona anche se non sei bello o ricco e anche se hai più di 40 anni. Rivelerò il metodo AAA in un evento online, in diretta, gratis. Saranno tre serate, 28, 29 e 30 aprile, ore 21. Per registrarti gratis, clicca sul link in descrizione o vai su www.metodoAAA.com Andiamo dritti al punto. Il primo motivo è perché segui troppo la massa. Quindi la maggior parte degli uomini sono convinti che soltanto quelli belli, ricchi, le celebrità televisive, quelli con lo status, possono avere successo con le donne. Veniamo convinti dal giorno in cui nasciamo, lo vediamo costantemente ovunque, nei film, nei social, e ci passiamo, cioè il passaparola da amico a amico, di generazione in generazione, e ci convinciamo, la maggior parte delle persone finiscono a pensare questo. Ma, devi anche guardare, ne parleremo poi nel secondo motivo, devi guardare anche quelli sono i risultati. Quindi, i risultati di chi ti sta dando quel consiglio o di chi crede a questo. Credere a questa cosa qui, credere al fatto che soltanto i belli, i ricchi, i palestrati, i alti, eccetera, possono avere successo con le donne, dove ti ha portato fino ad oggi? Se dove sei con le donne non ti piace, non ti soddisfa, evidentemente c'è qualcosa che non va. E quel qualcosa che non va parte da quello che pensi, ne parleremo più avanti in questo video. Quindi, io, essendo dal 2018 che faccio questo lavoro, insegnare gli uomini a saperci fare meglio con le donne, a portarsi a letto più ragazze, dal 2018 fino ad oggi abbiamo fatto ottenere i risultati migliori in Italia per quanto riguarda gli approcci a vivo, risultati dimostrati. Grazie alla lezione sul cosa fare in casa, Luca, non ti ringrazierò mai abbastanza per questo, perché è una cosa fondamentale che mi ha fatto svoltare, perché adesso ho capito cosa devo fare. E sono riuscito a chiuderla. Verso circa, non so, i primi di luglio così, ne ho scopata una, da approcci di giorno. L'ho chiusa il giorno stesso. Cioè, non era mai successo, non ci potevo pensare. Cioè, io l'ho portata verso le 10, 10 e mezza di mattina. Avendo aiutato dal 2018 oltre 1.400 uomini, ti posso dire con certezza che, indipendentemente dall'altra età, dalla tua situazione di partenza con le ragazze, chiunque può avere risultati positivi con le ragazze, a patto però che non si faccia condizionare dalla massa. Quindi, però, perché la maggior parte, diciamo, degli uomini credono, diciamo, alle cose di massa, al fatto di essere belli, ricchi, prestati, alti, eccetera. Quindi, perché molti in realtà lo sanno che sono delle puttanate, però continuano a credere a queste cose qua, perché così non devono sforzarsi. Credere a un modello di pensiero di massa implica meno sforzo. Il rimanere così come sei, chiaramente, implica meno sforzo rispetto a iniziare a pensare cose diverse che ti facciano poi avere risultati diversi. Quindi, è però... Ok che rimanere così come sei richiede meno sforzo, ma ti condanni anche a una vita di merda. Quindi, è una vita senza ragazze, è una vita dove rimani da solo vita. È una vita dove un giorno ti finanziarai con una cessa, che non ti sei neanche scelto, che ti è capitata per caso, e te la sei tenuta perché è l'unica che te l'ha data, non sapresti di come trovarti in altre. Quindi, non mi sembra, c'è il detto, scelte facili portano a una vita difficile. Scelte difficili ti portano poi a una vita facile. Quindi, metterci un po' più di impegno, quindi la scelta difficile, ti porta poi a una vita più facile. La scelta facile, invece, il non sforzarsi, ti porta poi a una vita di merda. È una vita difficile. Quindi, la maggior parte vanno dietro a modelli di pensiero di massa, perché così non devono sforzarsi di pensare, perché così non hanno responsabilità di quello che è il risultato, possono dare la colpa agli altri. Quindi, è mica colpa mia se non sono i risultati con le ragazze. Quindi, perché nel momento in cui ti prendi la responsabilità della tua vita, dei tuoi risultati con le donne, inizi a cambiare il tuo modello di pensiero con le ragazze, e lì capisci che i risultati che hai, o che non hai, dipendono da te. E la responsabilità, chiaramente, è pesante per le persone. Ma anche lì, se non ti prendi la responsabilità dei tuoi risultati con le donne, se è soltanto colpa degli altri, se è colpa delle donne, per esempio, non avrai i miei risultati, perché se stai già scaricando automaticamente, la colpa su altri. Quindi, beh, io sono a posto, io ho fatto tutto quanto giusto. Sono sugli altri, sono le donne che sono difficili, sono stronze, se la tirano, o quello che è. Cioè, sono gli altri, c'è troppa competizione, c'è troppi uomini, che poi non è vero, perché il livello di competizione in realtà è bassissimo. Cioè, ci sono tanti uomini, ma il livello è scarsissimo. Quindi non è che ci voglia poi molto. E anche perché la maggior parte degli uomini vanno dietro a un modello di pensiero di massa, perché così non vengono giudicati. Perché così possono avere gli altri amici sfigati intorno, tutti quanti a segarsi da soli, anziché essere con una ragazza che sono scelti, che gli piace, con cui andare a letto. O comunque poi essere in una relazione. Perché nel momento in cui inizi a, tra virgolette, cantare fuori dal coro, a dire ma sai che ho scoperto che quella ragazza le puoi conoscere anche, per esempio, di giorno, sono un esempio. E chiaramente i tuoi amici ti diranno ma sono cose da sfigati, è da morti di figa, è di essere te stesso, ma cosa pensi di fare, ma lo sai, poi ti arrestano, queste varie puttate qui che non sono assolutamente vere. Quindi mi ricordo anch'io quando in realtà non bisogna tentare di coinvolgere i propri amici, perché la maggior parte delle volte non gliene frega niente, o meglio, gliene frega ma non sono disposti a mettersi in gioco e quindi ti danno soltanto addosso. Tentano di farti rimanere così come sei, perché nel momento in cui tu cambi e ti migliori è il tuo miglioramento, è lo specchio del loro fallimento. Quindi per quello ti vogliono tenere al loro stesso livello e quindi ti danno addosso. Quindi non bisogna in realtà tentare di convincere i propri amici ah ma sai che ci si può migliorare quella ragazza e non gliene frega niente. O meglio, ripeto, gliene frega ma non sono disposti a farsi il viaggio di cambiamento e miglioramento. Quindi ok che non vieni giudicato dalle pressioni che hai intorno nel momento in cui continui a credere alla massa e però finisci a vivere una vita di rimpianti dove avrei tanto voluto fare questo, avrei tanto voluto fare quello per poi non aver fatto niente e arrivare alla fine, alla fine della vita, con una marea di rimpianti. Quindi sai qual è il posto dove c'è più potenziale al mondo? Il cimitero. pieno di persone che avrebbero tanto voluto fare questo, avrebbero tanto voluto fare quello, ma non hanno fatto un cazzo di niente. Perché? Nella maggior parte dei casi cosa penseranno i miei amici? Eh ma mi prendono in giro, ma... A parte che poi non è che ti prendono in giro, ma come ti ho detto, tieniti i tuoi obiettivi per te stesso, fai vedere poi i risultati, quando ci sono i risultati. E qualcuno potresti anche convertirlo, ma tanto non è, lo scopo non è convertire i tuoi amici, anche perché poi in realtà avrai altri amici, avrai altre persone con i tuoi stessi obiettivi, non è che poi sei da solo, avrai altre persone con i tuoi stessi obiettivi, quindi... E poi puoi comunque continuare a frequentare lo stesso i tuoi amici, semplicemente li frequentrai di meno, perché anziché essere sabato sera a fare gara di rutti al bar, a guardare le fighe su Instagram, mettendogli like, commentando quanto sono fighe, sarai invece in un appuntamento con una ragazza in carne d'ossa che ti puoi portare a letto quella sera lì, anziché essere al bar a fare gara di rutti, quindi è naturale che poi poco per volta ci si inizierà a vedere di meno. Potrai comunque frequentarli, ma quando li frequenti non starai a parlare di ragazze, perché loro stanno lì nella loro merda. Quindi... E il fatto che la massa, la maggior parte delle persone, pensa che una cosa sia impossibile, non vuol dire che sia impossibile. Significa soltanto che loro non ne sono capaci. La maggior parte delle persone pensa che sia impossibile approcciare una ragazza di giorno per strada, ma non vuol dire che allora è impossibile. Significa solo che la maggior parte delle persone non ne sono capaci. In una notte di oggi praticamente ho fatto nove approcci e tre stand date, quindi semplicemente andando, trasferendo la ragazza praticamente dalla strada in pochi minuti in un bar, in un locale in modo da parlare. Guidato da Luca sono riuscito a correggere alcuni punti nei quali ancora avevo difficoltà e a portare prima la ragazza a letto e poi l'Argentina allora l'ho approcciata, è andata bene, l'ho portata in un instant date, l'ho portata in una seconda location, l'ho portata in una terza location, l'ho portata a casa. Quindi ricordati, tu devi puntare ad essere l'aquila, la persona invidiata dei piccioni, ok? Se vuoi rimanere piccione vivrai una vita di merda in termini sentimentali. Il secondo motivo del perché non riesci a far sesso con nuove ragazze è perché non capisci, non ti è chiaro, non sai come si ottengono le cose nella vita in generale. Quindi il come si ottengono i risultati con le ragazze non è diverso da come si ottengono risultati nella forma fisica, nell'area economica, in qualsiasi ambito, macro ambito di vita, ok? Le dinamiche sono sempre stesse, quantomeno le macro dinamiche poi più si entra nello specifico più ovviamente cambia da settore a settore, ma va capito il come si ottengono le cose in generale nella vita, ok? Quindi ovvero andiamo a manuale sulla vita. Quindi innanzitutto va capito il da dove arrivano i tuoi risultati. Quindi i tuoi risultati derivano dalle tue azioni. Già questo è scioccante per la maggior parte delle persone. Tu puoi dire sì sì ma lo so già, perfetto, dove sono i tuoi risultati? Quindi non lo sai. Quindi tu puoi sapere una cosa a livello conscio ma non saperla inconsciamente. Tu quando una cosa la sai inconsciamente, quando è parte della tua realtà hai anche il risultato. Se tu dici soltanto sì sì lo so già ma poi non hai il risultato vuol dire che allora non lo sai. Quindi i tuoi risultati derivano dalle azioni e da dove derivano le tue azioni? Le tue azioni derivano da ciò che pensi. Quindi nel momento in cui lavori su ciò che pensi, pensi delle cose diverse e migliori, farai azioni migliori e più giuste e di conseguenza otterrai dei risultati. Quindi e va capito da dove è che arrivano tutte quante le cose che pensiamo perché la maggior parte degli uomini pensano a cose sbagliate. Hanno in testa puttanate. Bisogna essere belli, ricchi e soltanto quelli con la Ferrari e bisogna essere palestrati e alti e aspetta che vedi quella giusta e si te stesso e tutte queste varie puttanate qua che chiaramente ti hanno portato a nessuna parte fino ad oggi. Quindi ma da dove è? Oppure tutte le varie insicurezze la paura di essere rifiutato la paura del giudizio agli altri e se faccio una brutta figura e se pensi che sono un pervertito eccetera 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 ti rendi conto se tu c'hai in testa tutte quante queste puttanate come fai a fare azioni giuste? Ti faccio un esempio ti passa davanti una ragazza in un locale in una discoteca o quello che è se a te il primo pensiero che ti parte sono pensieri negativi ma figurati ma che sarà troppo bella è impossibile no ma sarà sicuramente fidanzata no ma il fidanzato non si vede però sarà qua sicuramente in zona le amiche se vado lì a parlarci mi derideranno e poi mi guarderanno le persone intorno e mi derideranno oppure anche se vado lì tanto mi rifiuta tanto inutile ci provo e secondo te se tu pensi queste cose qua o cose simili secondo te che azione farai? farai il nulla non farai azione oppure se per sbaglio ci vai a provare ovviamente verrai rifiutato perché ti approccerai in una maniera iper insicura se tu invece pensi per esempio non so ti passa davanti una ragazza facciamo sempre di sera in discoteca in qualsiasi situazione dal vivo ti passa davanti una ragazza e dici magari magari ti parte il pensiero subito minchia questa è troppo figa però magari ti parte un secondo contropensiero e pensi e se però fosse questa la prossima ragazza con cui mi fidanzerò e perché prima o poi l'approccerai quella con cui sarai in una relazione quindi ti potrei fare tantissimi esempi di come per esempio questa mentalità del pensare e se fosse la prossima ragazza con cui puntini 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 tante volte mi ha fatto fare approcci che non avrei fatto che mi hanno portato a risultati situazioni che non avrei ottenuto quindi comprese varie scopate passate compresa la relazione che ho attualmente che va avanti da quasi tre anni che mi ricordo stavo per andare a casa era una situazione di giorno era un centro commerciale stavo per andare a casa ero quasi sull'uscita e passa avanti questa ragazza dico no che vale ma oggi ho già fatto un po' di approcci voglio andare a casa però ho detto dai ma è un'occasione troppo d'oro non posso non andarci però ho pensato se fosse la prossima ragazza con cui puntini 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 ci sono andato a parlare sbagliati appuntamenti e reato al sesso e ci sono ancora in una relazione ma te potrei fare tantissimi altri esempi anche con relazioni passate anche con ragazze con cui semplicemente ci sono andato a letto quindi chiaramente con questo tipo di pensiero ti produrrà un'azione migliore un'azione più giusta che ti farà fare che ti farà ottenere di conseguenza risultati migliori già se riesci a capire questo concetto qua sei più avanti rispetto al 99% degli uomini perché la maggior parte degli uomini crede sia la fortuna il destino se le cose arrivano arrivano ma le cose non è che sono animate non è che arrivano se si arrivano quindi devi anche farle arrivare tu devi anche andare a conoscerle tu le ragazze scopri come più di 1400 uomini in Italia stanno finendo in camera tra letto in poche ore con nuove ragazze conosciute al vivo riducendo quasi a zero le possibilità di essere rifiutato grazie al metodo AAA e anche se hai più di 40 anni rivelerò il metodo AAA in un evento online in diretta gratis saranno tre serate 28 29 e 30 aprile ore 21 per registrarti gratis clicca sul link in descrizione o vai su www.metodotriplaa.com www.metodropine.co.au